Prendi il controllo dei tuoi pensieri, perché se non sai controllare i tuoi pensieri significa che non sei tu il padrone della tua vita. Uno slogan pubblicitario diceva che la potenza non è niente senza controllo. Sì, la potenza non è niente senza controllo. Ciao, io sono Fra Stefano e insieme vedremo come possiamo tornare a prendere controllo dei nostri pensieri. Mi è mai capitato di voler abbandonare una cattiva abitudine ma di non riuscire a toglierla o di voler raggiungere alcuni obiettivi personali senza esserne capaci? Come mai a volte non riusciamo a fare quella che sappiamo essere la cosa giusta? A volte è come se ci fosse qualcosa più forte di noi che ci porta a fare qualcosa di sbagliato. Che cos'è che ci spinge a fare quello che non vorremmo fare? Fate bene attenzione a questo. Vi racconto questa storia un po' alla volta ne scopriamo il significato. Nella città di Alessandria di Egitto nel terzo secolo dopo Cristo viveva un uomo molto ricco era considerato uno degli uomini più ricchi di tutto l'Egitto il quale non aveva nessun erede perché non aveva avuto figli e gli altri parenti erano già morti. Quando quest'uomo ricco morì il notaio incaricato dell'eredità decise di fare un'indagine. Fu così che scoprì che in realtà c'era un parente di secondo grado ma ancora vivo ma costui era un'eremita che si era ritirato a vivere nel deserto e si chiamava Abba Arsenio. Il notaio mandò dunque un segretario in cerca di lui e quando lo trovò gli raccontò tutta la storia del suo parente che era morto e con insistenza cercava di convincerlo dicendogli vieni città e tutta l'eredità sarà tua dopo sei libero di fare quello che ti pare se vuoi potrai ritornare nel deserto potrai mettere a posto questa catapecchia in cui vivi potrai aiutare i poveri e non avrai più bisogno di preoccuparti di nulla. Allora Abba Arsenio rispose vai a dire al notaio che Abba Arsenio è già morto molti anni fa solo una persona che muore a ciò che è stata nel passato si può aprire a qualche cosa di nuovo. La nostra mente è la torre di controllo della nostra vita e tutto quello che capita nella nostra vita comincia proprio qui dai nostri pensieri è chiaro che nella vita accadono anche alcune cose che non dipendono da noi ma quello che noi siamo oggi quello che siamo noi oggi interiormente è il risultato di tutto ciò che abbiamo pensato nel corso di tutti questi anni. La Bibbia dice che quello che tu pensi nel tuo cuore questo è ciò che sei ed è così quello che tu pensi nel tuo cuore è ciò che sei e se non sei contento di quello che ti sta capitando forse dovresti provare a chiederti se stai pensando a cose buone a cosa pensi di te cosa pensi di te stesso cosa pensi delle persone che ti stanno attorno e qual è la tua relazione con Dio perché ciò che noi siamo dipende da quello che stiamo vivendo interiormente. Noi non possiamo pretendere di controllare gli altri e non possiamo nemmeno cambiare il mondo e tuttavia siamo noi a scegliere se a reagire in un modo o in un altro a ciò che ci capita ed è questo che ci porta ad essere quello che siamo e noi dovremmo chiederci se stiamo pensando in modo positivo o negativo se stiamo realizzando la nostra vita secondo il bene che Dio ha pensato per noi o se c'è qualcos'altro che ci sta guidando verso il nulla. San Paolo ha scritto nella lettera ai Colossesi al capitolo terzo se dunque siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù dove è Cristo seduto alla destra di Dio rivolgete il pensiero alle cose di lassù non a quelle della terra voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio e poi aggiunge rivestitevi dunque dei sentimenti di tenerezza di bontà di umiltà di mansuetudine di magnanimità e poi ancora ma soprattutto queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto e la pace di Cristo regni nei vostri cuori perché ad essa siete stati chiamati. Dobbiamo capire che solo grazie all'intervento di Gesù Cristo noi possiamo morire a noi stessi per rinascere come persone nuove per questa ragione Gesù aveva già detto chi vuole salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà Gesù non rivolge queste parole esclusivamente ai martiri ma le rivolge ad ogni essere vivente perché fino a quando rimaniamo persone del mondo che pensano secondo il mondo noi non saremo mai liberi ma rimaniamo schiavi del nostro corpo schiavi dei nostri pensieri terreni ma se noi moriamo a noi stessi allora possiamo rinascere nello spirito e allora potremo davvero scegliere come orientare i nostri pensieri e la nostra vita allora spero che sia chiaro il primo punto che è semplicemente questo la via maestra per essere persone libere capaci di orientare i propri pensieri e creare una relazione profonda e stabile con Gesù Cristo come d'altra parte ci era già stato anticipato nell'antico testamento che dice principio della sapienza è il timore di Dio se non ti apri a Dio non solo non sarai sapiente ma non sarai nemmeno libero di pensare perché è la verità che ci rende liberi e la verità che è Gesù Cristo come puoi scegliere di orientare la tua vita se non sai distinguere il bene dal male se non hai nessuna idea della direzione da prendere molte persone si lasciano guidare da pensieri sbagliati pensieri che fanno male qualcuno pensa io non ho mai avuto opportunità nella vita io non riuscirò mai ad essere quello che desideravo io non sarò mai una persona bella io non sarò mai capace di vincere le mie paure io non merito di essere amato e pensate a quello che capita migliaia di giovani che sono bellissimi e si guardano allo specchio e si vedono brutti persone magre che pensano di essere grasse immagiano sempre di meno quasi sempre non è la realtà che ci circonda che ci impedisce di essere felici ma sono i nostri pensieri a impedircelo e ve lo dico mentre mi trovo in uno dei paesi più poveri del mondo e vedo attorno a me bambini senza scarpe che corrono felici il modo in cui pensiamo determina il modo in cui viviamo e influisce sulle nostre relazioni con gli altri e con noi stessi e con dio pensate a quante persone compromettono la loro possibilità di avere successo nella vita perché qualcuno ha impiantato nella loro mente il pensiero che non valgono niente e purtroppo a volte sono anche i genitori che insimulano questa sfiducia e questo demolisce ogni slancio verso qualcosa di più grande se tu pensi male della persona con cui lavori sicuramente questo pensiero prima o poi si manifesterà nel tuo comportamento e comprometterà la possibilità di fare un buon lavoro di squadra e se la vita coniugale va in crisi come prima cosa chiediti cosa pensi del tuo coniuge perché se veramente desideri salvare questa relazione come prima cosa devi cercare di avere pensieri positivi ci sono persone che hanno subito mortificazioni o lutti o molestie o atti di bullismo e non riescono a uscire da questa spirale di pensieri negativi può capitare che una persona si sia abituata a soffocare l'ansia bevendo alcolici o fumando e finisce col pensare che sia impossibile essere felici senza ubriacarsi che si possa star bene anche senza fumare ma questi non sono pensieri buoni e non sono veri quindi come prima cosa rinnova il tuo pensiero in modo sano e positivo un'abitudine è un insieme di pensieri comportamenti emozioni automatiche acquisite per ripetizione e quando hai fatto una cosa così tante volte che il tuo corpo la ripete senza aver più bisogno di usare la mente prova a pensarci la maggior parte delle cose che noi facciamo già a partire dal nostro risveglio sono cose che facciamo in modo automatico e anche i nostri pensieri in modo automatico prendono la stessa direzione che hanno preso in passato ai pensieri sono anche legate le emozioni per cui appena ci ricordiamo di un problema a un tratto ci sentiamo preoccupati proviamo dolore la qualità dei nostri pensieri determina quindi anche la qualità delle nostre emozioni e il modo in cui noi stiamo è per questo che vedi una persona felice e ne vedi un'altra che magari è triste e non sai perché ma tutto nasce dai pensieri che generano emozioni e che si manifestano nei diversi stati d'animo fino a quando i nostri pensieri rimangono focalizzati nel passato noi tendiamo a ricreare sempre la stessa vita a partire da quando ci svegliamo e accendiamo la luce e preghiamo e facciamo colazione e guardiamo al telefono e continuiamo con le abitudini durante tutta la giornata fino a quando arriva l'ora di andare a dormire gran parte della nostra vita è una routine come un programma che si ripete automaticamente senza più richiedere l'intervento di una nostra decisione cosciente senza bisogno del nostro libero arbitrio e fino a un certo punto tutto questo può andare bene perché se impariamo a camminare senza dover pensare i passi che dobbiamo muovere questo lascia alla mente la possibilità di pensare a cose più importanti tuttavia può diventare un problema quando abbiamo acquisito delle abitudini cattive e non riusciamo più a liberarcene ed è sicuramente un problema quando i pensieri negativi ci impediscono di stare bene ci impediscono di esprimere il meglio di noi stessi o rovinano le relazioni più importanti della nostra vita quando non siamo in grado di vagliare i nostri pensieri e non riusciamo a promuovere pensieri positivi siamo noi la principale causa del nostro malessere sappiate che è possibile prendere il controllo dei nostri pensieri ma non del tutto infatti non riusciamo mai ad essere pienamente in controllo del nostro mondo interiore ci saranno sempre alcune cose che sono più profonde dei nostri pensieri e tuttavia possiamo fare leva sulla nostra coscienza per cercare di orientare la nostra anima nella direzione che vogliamo dobbiamo essere consapevoli dunque che è possibile prendere il controllo dei propri pensieri per grazia di dio noi siamo persone libere vediamo adesso come fare la prima cosa da fare è porsi alcune domande sulla propria vita per prendere coscienza di ciò che va bene e ciò che va male in questa fase di discernimento è essenziale essere onesti con se stessi perché chi è abituato ad avere pensieri cattivi è anche abituato a giustificarsi un avaro cercherà di negare che l'avarizia è un problema un tossico dipendente cercherà di negare che la sua dipendenza è un problema e via dicendo come prima cosa allora cerca di essere onesto con te stesso e chiediti se stai vivendo la vita che vuoi e non mi riferisco alle ricchezze che puoi aver accumulato nel corso degli anni ma alla tua interiorità stai davvero vivendo la vita che vuoi c'è qualche vizio che rovina la tua salute qualche ricordo che ti impedisce di essere felice qualche abitudine che limita la tua libertà sei la persona che vorresti essere e qui entra in gioco la preghiera e la meditazione perché solo grazie alla nostra dimensione spirituale che possiamo uscire dalla matrice dei nostri pensieri e trovare il nostro io più profondo quello che sta alla radice delle nostre abitudini delle nostre emozioni dei nostri pensieri molte persone decidono di cambiare solo quando capita qualche tragedia nella loro vita ed è comprensibile perché nella sofferenza la verità si fa più chiara ma non è necessario aspettare la sofferenza per cambiare anzi prima cominciamo a vivere la nostra vita e meglio è perché chi ha vissuto un trauma tende a riviverlo più volte questo è un meccanismo interiore di difesa le situazioni e le persone che ci hanno fatto soffrire restano impresse nella memoria perché non vogliamo rimanere scottati una seconda volta quando abbiamo una reazione emotiva verso una cosa o una persona normalmente pensiamo che sia una cosa istintiva e che sia impossibile controllare quella reazione e se ci lasciamo cullare da pensieri negativi per alcuni giorni questo ci porta ad essere di malumore e se coltiviamo pensieri negativi per anni e anni questo finisce col plasmare la nostra indole il nostro carattere e infine si manifesta anche nel nostro corpo e nella postura noi veniamo trasformati dai pensieri che coltiviamo dentro di noi perché quel tale è così cinico perché quell'altro è così scontroso come mai invece quello è così pacifico e via dicendo dipende dai pensieri che coltivano dentro di loro la trasformazione di noi stessi comincia quando non permettiamo ai pensieri negativi di rimanere in modo stabile dentro di noi quando non lasciamo che diventino parte della nostra indole e all'inizio il lavoro è molto duro come un lavoro di un contadino che deve bonificare un terreno abbandonato pieno di sassi e di sterpaglie e che sostituisce il terreno argilloso con un terreno ricco di humus ricco di vita lo so non è facile chi ha ricevuto una ferita profonda continua a rievocare quella situazione perché è l'istinto di sopravvivenza gli dice di fare attenzione a ciò che è successo per essere preparato se dovesse succedere ancora ma d'altra parte dobbiamo anche renderci conto che non è sano vivere in modalità protetta vivere sempre in difesa sempre aspettandoci il peggio dalle persone e dalla vita se questa condizione dura a lungo il corpo reagirà da solo con un attacco di panico e non potete prevederlo perché è un programma inconscio ed è così che molto spesso le persone non riescono ad essere veramente libere nei loro pensieri ma tendono a seguire un programma inconscio che col passare del tempo è rimasto stampato nei circuiti dei loro pensieri per questa ragione la cosa più difficile del cambiamento è non scegliere più ciò che hai scelto prima e questo richiede fatica e motivazione perché bisogna uscire dalle rotaie dell'istintività e dell'abitudine trovarsi nell'ignoto fa paura ma questo è anche lo spazio della libertà del coraggio di prendere delle scelte e di assumersi dei rischi appena decidi di fare una scelta diversa preparati perché ti sentirai a disagio e in ansia perché cominci a camminare su un terreno inesplorato il corpo cercherà di riportarti nel circolo dell'abitudine hai fumato per 35 anni accenditi un'altra sigaretta quella persona ti ha fatto del male non lasciar cadere quella offesa quel lutto è troppo grande trattieni dentro di te la trastezza vedete in questo modo la memoria cerca di riportarvi sulle rotaie del passato rotaie magari dolorose ma che ci fanno sentire al sicuro prendere il controllo dei propri pensieri non significa dimenticare il passato significa invece riuscire a reagire in modo positivo al nostro passato in modo che il passato sia una ricchezza e non si trasformi mai in una zavorra abbiamo quindi capito che la possibilità di controllare i nostri pensieri ci apre alla possibilità di scegliere che tipo di persona vogliamo essere e allora è davvero importante rispondere a questa domanda che tipo di persona voglio essere cerca di visualizzare il tuo obiettivo se non definisci te stesso con una visione del futuro lo farai con un ricordo del passato e diventerai solo quello che sei già stato prima pensa allo stato d'animo che desideri avere quando incontri le persone agli atteggiamenti che hai nei luoghi in cui vivi pensa al modo in cui organizzi il tuo tempo perché la vita cambia quando troviamo un nuovo equilibrio in queste cose semplici di tutti i giorni perché la nostra vita non è altro che la somma di tutte queste sfaccettature se c'è una persona che ti offende quella potrà diventare la tua piccola palestra per il perdono per la temperanza se c'è una persona che ammiri quella potrebbe essere il tuo riferimento per una crescita umana e spirituale e così via le cose di ogni giorno diventano i mattoni con cui costruiamo ciò che noi siamo per essere liberi dobbiamo diventare più forti più forti dell'ambiente che ci circonda nel senso che non dobbiamo permettere che sia l'ambiente a determinare ciò che noi siamo dobbiamo diventare noi protagonisti della nostra vita creando una relazione positiva con il mondo che ci circonda la meditazione la preghiera sono molto efficaci per raggiungere questo risultato perché serve la meditazione beh è semplice perché ci sediamo chiudiamo gli occhi ci scolleghiamo dall'ambiente esterno e in un certo senso ci scolleghiamo anche dal nostro corpo nel senso che sospendiamo tutte quelle attività che in qualche modo ci distraggono il corpo non deve fare altro che stare seduto immobile in modo composto e respirare e non deve fare nient'altro né mangiare né parlare né fumare in quel momento l'unica cosa che ci definisce è il pensiero la preghiera ci aiuta anche a prendere consapevolezza di quello che stiamo vivendo interiormente ci aiuta a distinguere i pensieri buoni quelli che fanno bene da quelli cattivi dai pensieri tossici e ci permette di prendere le distanze dal passato con il suo carico di emozioni e di dipendenze e se ti accorgi che in te c'è qualche cosa che sta spingendo nella direzione sbagliata grazie alla preghiera puoi sentire il sostegno della presenza di dio infatti non siamo soli nella lotta contro le inclinazioni negative lo spirito santo agisce in noi per aiutarci a comprendere cosa è buono vero e giusto e ci dà la forza per tendere a ciò che abbiamo riconosciuto come bene e se con costanza noi riusciamo a far prevalere lo spirito buono che dentro di noi un po' alla volta riconquistiamo la nostra libertà di pensiero e diventiamo persone diventiamo le persone che vogliamo essere spero che questa riflessione ti sia stata di aiuto e ti invito a condividerla e a riascoltarla quando ti sentirai scoraggiato ti sembrerà che sia impossibile trasformare la tua vita non lasciarti ingannare da questi pensieri falsi ma continua a lavorare su te stesso e i progressi arriveranno dio ti benedica e abbi cura di te